Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi McBand con due panini con dentro sottilette e peperoni. Le peperoni sono cotti, questi sono panini da toast però non hanno fatto il toast ecco. E quindi mangiamo. Qua c'ho la cover del telefono, c'è il borsellino dove lo tengo, però era leggermente in mezzo ecco. Sono peperoni rossi perché avevo anche quelli già, ma li ho mangiati ieri sera. Praticamente si era stoppato il video e io non me ne ero accorto, vabbè. Comunque stavo dicendo, finalmente riaprono un po'. Adesso, in questo momento qua siamo in zona arancione, però quando uscirà questo video penso che siamo in zona gialla. Che sarei in zona gialla, spero, perché non ne posso più. Soprattutto ora che comincia a fare un po' caldo, stare chiusi in casa non è proprio il massimo. Poi vicino a me steso c'è Frenchi. E adesso andiamo col secondo panino, sempre peperoni rosso ovviamente. Io adoro le sottiette nei panini, per me sono veramente buone. Io adoro le sottiette nei panini, per me sono un po' caldo. Preferisco una sottietta rispetto a un po' di maionese nei panini. Grazie. 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 Grazie.